Cody Rhodes è stato uno dei pilastri fondamentali per la nascita della All Elite Wrestling, ma ora l'atleta è un free agent e addirittura i siti americani ritengono, lo state leggendo, che possa presto firmare un contratto con la WWE. Sia Cody che sua moglie Brandy avrebbero lasciato la All Elite Wrestling ieri dopo diverse settimane di discussione contrattuale, ma tra le parti non è stata trovata la quadratura del cerchio. Quindi, con Cody libero sul mercato, in tanti analisti credono che la sua tappa futura obbligata sia la WWE. Perché paga bene e perché Cody è comunque considerato un top player per il cognome che porta, per le capacità oratorie, per la maturazione come personaggio a cui è andato incontro paradossalmente da quando, diversi anni fa, lasciò proprio la federazione dei McMahon. Qui ci sono i vari comunicati stampa, li troverete in giro, ovviamente Cody se ne va senza sbattere la porta. Si dice fortunato ad aver partecipato ad una rivoluzione, quella di una nuova filosofia connessa alla proposta del wrestling, differente chiaramente da quella della famiglia McMahon e della WWE. Anche Tony Khan, che è il patron della All Elite, lo ringrazia, dice che Cody e Brandy sono stati una parte integrante del lancio e del primo successo della compagnia, della Lega. Il loro contributo è stato molto apprezzato e non sarà mai dimenticato. E poi, comunque, torniamo punto e a capo a Cody Rhodes, expected to sign with WWE. Lo dice anche Dave Meltzer, del Wrestling Observer, non è sicurissimo, ovviamente, come tutti gli altri, però, visto che è un analista molto vicino alle vicende All Elite, nella puntata più recente del Wrestling Observer Radio, dice che ci sono stati degli agganci, degli abbocchi, delle parole, delle talk tra Cody e WWE, che sono in corso anche in queste ore, anche in questi minuti. Interessante, interessante perché, beh, è una notizia. Uno dei primi a credere nella All Elite Wrestling, in qualche modo non sappiamo per quale motivo, però ha deciso di abbandonare la barca. In un momento in cui, almeno per quanto concerne gli ascolti televisivi americani, le cose sembrano andare abbastanza bene. Ripeto, lo dico tante volte, parlano i bilanci, la WWE oggi vale più dall'80% del mercato mondiale del wrestling, la All Elite, se arriva al 10%, siamo decisamente generosi, però, insomma, le prospettive di crescita, lentamente, con calma, nemmeno Roma è stata fondata in un giorno, beh, sembrano presenti, questo distaccato, cioè, è lì da vedere, non si può fare un'analisi diversa, però, però va via. E se dovesse tornare dalla federazione, che, insomma, ha spesso citato negativamente, o con la quale è entrato in polemica a distanza per guadagnare consenso di fronte agli occhi di determinati fan, beh, sarebbe comunque un qualcosa di rilevante. Sarebbe la prima effettiva grande star non creata dalla All Elite, ma arrivata in All Elite e accresciuta di status in quell'ambiente che esce da quella struttura, che esce da quella lega e va in WWE. Sinora il passaggio è sempre stato il contrario, WWE licenzia qualcuno di famoso, oppure qualcuno, un midcarder, decide di andarsene, di non rinnovare il contratto, e questi trovano subito collocazione dall'altra parte. Questo invece sarebbe il primo colpo a flusso inverso. E che colpo? Perché Cody Rhodes, al progetto All Elite, ci ha creduto subito. era stato anche uno dei promotori di un grandissimo evento indipendente in America che ha aperto gli occhi sul fatto che mettendo insieme tutti i più grossi nomi non affiliati alla WWE con il giusto battage pubblicitario, si poteva riempire un palazzetto da diecimila posti. Dave Meltzer non ci credeva, avevano fatto una scommessa, lui, Cody Rhodes e alcuni degli altri coinvolti, sembrava impossibile. E invece, la dimostrazione che ci fosse un interesse verso un wrestling, un interesse così grosso, verso un wrestling non necessariamente proposto con lo stile e la filosofia WWE, lui è stato il primo passo, la prima orma, verso la creazione del progetto All Elite Wrestling. Tra l'altro Cody ci si era speso tanto, a differenza, ad esempio, correggetemi nei commenti, di CM Punk, che nelle varie interviste ha poi rivelato di essere stato contattato per essere tra i vicepresidenti fondatori della All Elite Wrestling, ma di aver rifiutato quelle proposte dicendo non posso spendere il mio nome perché non posso diventare la vedette di una federazione sulla quale non ho nessuna base per riporci fiducia. Perché se scompare dopo tre mesi il fallimento di quella Lega ricade in parte anche sulla mia immagine come se io non fossi stato capace di sorreggerla sulle mie spalle. Guardate bene, il discorso di CM Punk a livello di mercato è correttissimo. Non credo sia contestabile, è giusto. Ha protetto il ruolo, l'immagine, il posto che si è guadagnato in anni e anni di sbattimento. e lì devi stare con i piedi per terra, devi valutare tutto quello che sta accadendo e anche quello che potrebbe accadere. Ma Cody Rhodes sulla barca c'era salito. Cody Rhodes sulla nave che lasciava il porto c'è entrato. E c'è entrato come personaggio importante con la rivalità, col fratello, con i primi match, con lui che lancia messaggi alla WWE imitando Triple H, distruggendo scenografie, facendo cose che insomma hanno fatto capire che era in corso, era in atto una spaccatura importante, che c'era una voglia anche nei performer di provare a fare qualcosa di differente, non di migliore perché quella sarebbe propaganda, né di peggiore, qualcosa di differente che pian piano i suoi spazi anche in Italia e per carità se li sta prendendo. Quindi attenzione perché insomma uno dei fondatori se ne va. Io sono molto curioso di sapere, di scoprire, non so se ce lo diranno, se è una mera questione di soldi oppure se qualcosa nel backstage, là dove dovrebbe vigere la grande libertà creativa, secondo me questa sì che è propaganda, se invece qualcosa lì dietro si è rotto, se invece qualcosa è saltato, se invece quell'idea anarchica di incendiamo il mondo alla prova dei fatti poi alla lunga diventa un aspetta facciamo anche i pompieri. Non lo so, non lo so però vediamo adesso, vediamo che succede e vediamo se Cody Rhodes arriverà davvero in WWE. Vi lascio con due domande provocatorie, sperando che mi rispondiate nei commenti. Secondo voi Cody Rhodes farebbe bene a riaffidare la sua carriera alla WWE, una WWE che ce l'ha avuto per tanti anni ma non l'ha mai del tutto lanciato tra i big. Sì, gli ha fatto fare Stardust, gli ha fatto fare Dasha in Cody Rhodes col sacchetto in testa, però non sembrava vedere in lui quel performer capace di essere un main eventer of WrestleMania. Mettiamola così, quindi ci tornereste è vero che è lavoro, però hai detto che te ne andavi, che c'era una nuova filosofia, è chiaro che si fa la svelta a rimangiarsi tutto, però ci tornereste? E seconda domanda, se voi foste WWE con il roster stracarico al momento che hanno, con gli spazi narrativi che sono quelli che sono per gli upper carder, dagli upper carder a scendere, ma Cody Rhodes vi servirebbe? Cioè lo prendereste? Avreste la necessità di ingaggiarlo? Sono molto curioso di leggere le vostre opinioni al riguardo, quindi di Tarot 20 qui sotto, fatemi sapere come la pensate. di Tarot 20